Ha preso il via ieri pomeriggio la settima edizione di Dante 2021, il festival promosso dalla Fondazione Casa di Risparmio di Ravenna con la direzione scientifica dell'Accademia della Crusca, che propone dal 13 al 17 settembre anche quest'anno un ricco programma di incontri, spettacoli e concerti, tutti a ingresso gratuito. Motto dell'edizione 2017, il lungo studio e il grande amore, dall'inferno, canto primo verso 83esimo. La giornata d'apertura della settima edizione nella splendida cornice degli antichi chiossi francescani ha visto sul palco per i saluti iniziali Ernesto Giuseppe Alfieri, presidente della Fondazione Casa di Risparmio di Ravenna, Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca e Domenico De Martino, direttore artistico di Dante 2021. Ospite del primo pomeriggio, Alexander Lobodanov, dell'Università di Mosca, che ha spiegato quanto l'opera del sommo poeta abbia contribuito ad arricchire la poesia russa. Presidente Alfieri, per lei è in qualche modo il primo festival Dante 2021 nella veste di Presidente, un'occasione importante per Ravenna, per la cultura in generale, anche in vista del 2021. Sì, non le nascondo che sono anche abbastanza emozionato perché questo festival l'ho sempre vissuto da spettatore, questa è la prima volta che invece lo vivo da regista, diciamo. In previsione 2021, per Ravenna è una questione importantissima, io credo che è un evento culturale che non possiamo perdere, non possiamo e non dobbiamo perdere. Noi ci abbiamo creduto da sempre, questa è la settima edizione che vuol dire che dal 2010 abbiamo iniziato questo festival che si intitola proprio Dante 2021, però già da prima avevamo cominciato con Dante 09, che significa che già almeno, adesso non ricordo esattamente, ma 6-7 anni prima avevamo avuto la lungimiranza di prepararci a realizzare questo evento del 2021 che è il settimo centenario, è fondamentale secondo la mia visione, è un momento culturale fondamentale. Ormai è un viaggio che noi stiamo facendo, come Dante era pellegrino, anche noi siamo pellegrini all'interno del mondo dantesco, per conoscerlo più approfonditamente nella sua scrittura, nella sua poesia, ma anche per conoscere il mondo in cui il messaggio, la scrittura di Dante si è diffuso. Oggi abbiamo uno studioso russo che viene a parlarci dell'influenza appunto di Dante nei poeti, negli scrittori russi. Siamo molto contenti di questo perché, come dire, è un mondo, anche il nostro mondo che si allarga. Dante resiste anche nei miti collettivi, nell'educazione scolastica, ci sono autori che magari sono decresciuti di importanza. Già Petrarca, per esempio, che pure è importante, probabilmente non ha lo stesso fascino per i giovani. Dante resiste ancora bene e quindi dato che ha un altissimo valore simbolico per la lingua, ma anche per la stessa idea d'Italia e anche per certe posizioni morali radicali che aveva Dante, per il fatto di essere un esule, per il fatto di essersi impegnato in politica. Resta un grande modello, un grande esempio. Il fatto stesso che il festival di Ravenna ogni anno trovi un tema nuovo, verbo nuovo, energia nuova, e non ripeta mai se stesso, è il segno di una varietà di questo scrittore. Ripeto, un Petrarca, non dico che sarebbe impossibile, ma un po' più difficile, un po' più difficile. Dante ha avuto un grande successo in Russia, a cominciare dal 1700, soprattutto nella poesia di Pushkin, e nel 1900, con la produzione poetica dell'Akmatova, di Mandelstam, di Bloch, Zabalovski. Questi poeti hanno sentito Dante molto vicino, hanno sentito vicino il suo destino tragico che ha trovato ecchi nei destini dei poeti nostri, destini tragici. E poi questa ispirazione dantesca, ispirazione pushkiniana, ispirazione che ha trovato nell'Akmatova o nel Mandelstam, un'incarnazione molto profonda, molto ripensata, e ha dato bellissime poesie.